Lo sapevi che fare fotografie con un sistema APS-C presenta numerosi vantaggi? Ebbene sì, al giorno d'oggi si parla tanto di dimensioni del sensore, c'è la corsa al sensore più grande e più performante e c'è la diffusa convinzione che sia assolutamente vantaggioso comprare un sensore full frame perché è più grande, più costoso e sono dei sistemi più curati. Ma oggi andremo a vedere 5 motivi per cui è molto vantaggioso invece puntare sul sistema APS-C. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia da tanti anni, ho diverse fotocamere nel mio zaino, la maggior parte delle quali devo dire sono APS-C, io ho più fotocamere APS-C che full frame al momento e per degli ottimi motivi. Nel corso di questo video vado a esporvi quali sono secondo me gli indubbi vantaggi di un sensore più piccolo ma prima di cominciare vi invito come sempre a iscrivervi al canale e mettere un like a questo video perché se lo guarderete fino alla fine è assai probabile che grazie a me risparmierete un sacco di soldi. Cominciamo dal primo vantaggio che ovviamente è il più banale, il sistema APS-C di solito costa di meno. Che cosa significa questo? A parità di fascia, quindi abbiamo una PS-C top di gamma e una full frame top di gamma, c'è una differenza di svariate migliaia di euro tra i due sistemi. Questo dipende in parte dal fatto che le case puntano maggiormente sul sistema full frame, in parte per il fatto che il sistema full frame, essendo un sensore più grande, è di per sé più costoso, motivo per cui le case ci investono di più per farci spendere più soldi. Però il risultato immediato è che spesso e volentieri noi possiamo avere un risparmio effettivo andando ad acquistare il sistema APS-C perché ci portiamo a casa un sistema fotografico comunque che funziona, comunque siamo in grado di realizzare delle immagini di tutto rispetto, pagando una cifra che è una frazione minima di quello che avremmo speso se invece fossimo andati sul sistema full frame. Ovviamente questo vantaggio si riverbera anche sull'ecosistema. Le ottiche per APS-C ovviamente sono meno costose delle ottiche full frame. Questo può dare adito a dei problemi perché spesso e volentieri le ottiche APS-C sono meno curate delle ottiche full frame, quindi potrebbe capitarci di voler comprare delle ottiche full frame da usare sul nostro corpo APS-C perché le ottiche full frame, vi parlo in particolare di Canon, le ottiche full frame di solito sono meglio. Quindi potremmo risparmiare sul corpo macchina e poi andare a prendere un'ottica più costosa. Possiamo fare anche questo, però abbiamo comunque risparmiato sul corpo macchina. Le ottiche APS-C è vero che costano di meno e quindi sono meno curate, però è vero anche che se il nostro obiettivo è risparmiare, quindi non stiamo pensando di prenderci la cosa più costosa che possiamo comprare, ma solamente un sistema fotografico degno di questo nome con cui fare delle belle cose, il sistema APS-C nella maggior parte dei casi va benissimo e offre comunque delle valide alternative, anche perché esistono le ottiche di terze parti che io non amo particolarmente, però devo dire che Sigma di recente ha buttato fuori qualcosa di molto interessante, quindi vale la pena dargli un occhio. Parliamo di peso e dimensioni, perché il sistema APS-C avendo un sensore più piccolo di solito si sviluppa con uno chassis più piccolo e più leggero. Questo per molti può essere un vantaggio. Io sento molte persone, soprattutto magari ragazze, che dicono la fotocamera di una volta per me era troppo pesante, adesso con le fotocamere più piccole, con le mirrorless, finalmente posso portarmi in giro qualcosa anch'io perché riesco a portarla senza fare fatica. Un sistema APS-C sicuramente pesa di meno di un sistema full frame e quindi è più piccolo, più leggero, più facile da trasportare e questo può essere un vantaggio. Parliamo del sensore e della effettiva qualità. Dovete sapere che c'è una ampissima convergenza al giorno d'oggi, convergenza sia tra sensori diversi sia tra case costruttrici diverse, convergono tutte a raggiungere il medesimo risultato. Quindi laddove una volta la disparità di risultati tra sensore SIMOS e altri tipi di sensore era molto evidente, oggi queste differenze sono veramente ridotte ai minimi termini. Questo che cosa significa? Se noi acquistiamo un sistema APS-C e lo confrontiamo con un sistema full frame, in condizioni ottimali sarà estremamente difficile notare le differenze. Quindi di giorno, con una buona illuminazione, le differenze riscontrabili sono veramente pressoché nulle. La grossa differenza la noteremo magari quando dobbiamo lavorare di notte o comunque in assenza di luce. Quando lavoriamo in assenza di luce il sensore full frame ha un vantaggio, indubbio, anche se dobbiamo sempre ricordarci che anche il sensore full frame fa fatica quando c'è poca luce. Quindi avremo sì uno svantaggio utilizzando il sensore APS-C, ma avremo questo svantaggio solamente quando c'è poca luce e comunque non è che chi ha un sistema full frame automaticamente fa delle foto migliori. Saranno comunque delle fotografie dove il sensore fa più fatica a catturare la luce. Quindi questo vantaggio secondo me non è mai stato ridotto ai minimi termini quanto lo è oggi. Inoltre tenete conto che io utilizzo correntemente sensori APS-C per lavori anche professionali. Quando io faccio still life, per esempio quando io faccio macro, utilizzo un sensore APS-C e non mi ha mai creato il minimo problema. Le immagini che tiro fuori soddisfano le mie esigenze, soddisfano le esigenze dei miei clienti, quindi non esiste veramente più il problema. Esplorando le caratteristiche di un sensore APS-C ci rendiamo conto che quello che può essere reputato uno svantaggio, ovvero il fattore di crop, può anche essere rivolto a nostro favore. Cosa significa questo? Un sensore fotografico ha una determinata dimensione. Il full frame è un 24x36 mentre l'APS-C è più piccolo essendo più piccolo cattura solamente la porzione centrale del nostro fotogramma, perde qualcosa sui bordi. Questo però senza variare la densità. Si è sparlato molto spesso anche nei commenti nei giorni scorsi di quello che succede quando noi prendiamo una fotocamera full frame, una mirrorless perché prima non si poteva fare, e la utilizziamo con un'ottica APS-C. Quello che succede è che andiamo a eseguire un ritaglio sostanzialmente, una moltiplicazione per cui anche sul nostro sensore full frame prendiamo in considerazione solo la porzione centrale. Questo però con una caduta qualitativa perché noi stiamo andando a prendere la porzione centrale, ma la densità in megapixel del sensore rimane la medesima, quindi secondo me è molto svantaggioso. Sul sensore APS-C invece la densità è quella e quindi andando a utilizzare un'ottica che sia APS-C o che sia full frame, tanto il fattore di moltiplicazione c'è comunque, andando a utilizzare un'ottica su un sensore APS-C abbiamo un fattore di moltiplicazione e quindi ci avviciniamo al nostro soggetto senza variare la densità del sensore però. Quindi è molto indicata per chi vuole delle ottiche più lunghe, per chi vuole fare sport o avifauna, secondo me il sensore APS-C è premiante perché ci avvicina al nostro soggetto però senza andare a fare un compromesso sulla densità del sensore. E siamo arrivati all'ultimo vantaggio e per questo vantaggio vi devo segnalare di andarvi a vedere il video che comparirà in sovraimpressione non appena terminerà questo video, perché in quel contenuto andiamo a parlare di filtri fotografici e andiamo anche a vedere che cosa succede quando montiamo più filtri uno sopra l'altro. Quando noi andiamo a montare dei filtri davanti al nostro obiettivo, quello che può succedere soprattutto se sono ottiche grandangolari è che cominciamo a vedere la vignettatura prodotta dal filtro stesso, soprattutto se mettiamo più filtri, magari se mettiamo due filtri ND o se mettiamo polarizzatore più ND, magari cominciamo a vedere una vignettatura che si presenta soprattutto negli angoli. Il vantaggio di scattare con APS-C è che questo problema non si verifica più, siccome stiamo valutando solamente la porzione centrale del nostro fotogramma, la vignettatura che viene introdotta da filtri o paraluce viene tagliata fuori, quindi è un grosso vantaggio perché quando utilizziamo queste protesi, questi supporti, non andiamo a introdurre nessun tipo di artefatto o difetto nelle nostre immagini. Inoltre, prendendo in considerazione solo la porzione centrale dell'immagine, stiamo generalmente usando la porzione più nitida delle ottiche. Sapete che la maggior parte delle ottiche sono costruite in modo da essere molto nitide nel mezzo e questa nitidezza va a perdersi man mano che arriviamo sui bordi. Con un sistema APS-C questo non succede perché i bordi vengono già rifilati, vengono già tagliati fuori, quindi stiamo usando la porzione più nitida di tutte le ottiche che andiamo a utilizzare. Questi, secondo me, sono motivi estremamente validi per non scartare a priori un sistema con un sensore APS-C. Ovviamente vale la stessa cosa anche per il micro 4 terzi e altri sensori. Non dobbiamo, secondo me, scartarli a prescindere solamente perché pensiamo, abbiamo sentito dire che il sistema full frame è meglio. Questa differenza era molto accentuata in passato e si vedeva veramente a prima colpo d'occhio. Oggi, secondo me, questa cosa si nota molto di meno e in certi casi può anche essere completamente ininfluente e in certi casi può addirittura essere vantaggioso utilizzare un sistema APS-C. Vi dico una cosa, io i miei video li registro tutti con APS-C. Quando faccio cose fuori per lavoro magari uso il full frame, ma i video che vedete qui sul mio canale sono tutti registrati con APS-C perché mi viene meglio, mi fa più comodo e rispetta maggiormente quella che è il rapporto tra il sensore e l'ottica per quello che è lo spazio in cui realizzo i miei contenuti. Non mi crea nessun problema perché qui non c'è rumore, la luce è controllata e ho speso di meno. Io potevo prendere un'ammiraglia per fare i miei video, ma invece ho preso un sistema APS-C perché mi dà tutto quello che voglio. Io sto registrando in 4K fine, quindi è un 4K con l'oversampling dal 6K. È un'immagine che è una bomba pazzesca quella che viene fuori da Canon EOS R7, quindi capite che per me non aveva senso spendere di più per fare questi contenuti. Così ho esattamente quello che voglio e questo è il tipico caso in cui comprare APS-C è stato vantaggioso dal punto di vista del prezzo, vantaggioso dal punto di vista delle ottiche. Ho comprato il 35mm f1.8, non ho comprato il seppur bellissimo 35mm di serie L che costa più di 3000€. Lo vorrei, se qualcuno di voi me lo vuole regalare lo accetto, però ho preso quello che costava meno e mi dà tutto quello che mi serve lo stesso. Ho preso la cage di small rig da mettere sulla macchina e l'ho pagata un po' di meno rispetto a quelle per full frame. Insomma tutta una serie di accesso alla memory card l'ho pagata un po' di meno, tutta una serie di cose che sono costate un po' di meno ma mi danno esattamente il risultato che voglio. Vi ricordo di recuperare il video che comparirà in sovraimpressione a breve, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate anche un like a questo video perché voi non ve ne accorgete ma mi date una grossa mano. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.